Ciao a tutti ragazzi, allora siccome in questi giorni non è apparso su Facebook il solito promo animato che ricorda il prossimo appuntamento su Dazon con il Coca Cola Super Match vi ricordo tramite questo screen che ho salvato qualche giorno fa e che invece è apparso su Facebook che lunedì appunto torna il Coca Cola Super Match e ospite ci sarà Lillo Petrolo del duo comico Lillo e Greg e la partita sarà alle 20 e 30 in prima serata alle 20 e 30 sulle zone quindi non nell'ora di cena e la partita da commentare è Roma Cagliari quindi lunedì su Dazon e Coca Cola Super Match con Lillo Petrolo chi può si sintonizzi ecco buon weekend a tutti